Rose bianche, giocattoli, vestiti caldi ma soprattutto alloggi e tanto affetto. Sono state accolte così le prime famiglie ucraine arrivate a Teramo ed invitate nella sede della Caritas Cittadina. Presenti il sindaco Gianguido d'Alberto e il vescovo Lorenzo Leuzzi. Un'accoglienza che si estenderà ad altri profughi di guerra che si annunciano numerosi sull'intero territorio provinciale. Il prefetto di Teramo Massimo Zanni insieme ai comuni e all'ASL sta infatti coordinando le azioni umanitarie. La diocese di Teramo Atri si è trovata coinvolta perché alcune donne che lavorano come assistenti familiari sul territorio ci hanno chiesto una mano per far venire i propri parenti. E quindi ci siamo trovati sin dall'inizio in una situazione che comunque non era strutturata ancora sul territorio, ma sul territorio italiano, quindi sono stati i primi a venire via subito quando al 24 mattina ci sono stati i primi bombardamenti. Quante famiglie avete ospitato? Noi abbiamo, sosteniamo quattro nuclei familiari qui sul territorio per un totale di 11 persone in questo momento. Cercheremo, abbiamo, ecco appunto hanno fatto il tampone, la quarantena, la dichiarazione di presenza in questura, abbiamo inserito i bambini a scuola, stiamo cercando di coinvolgere le donne nelle nostre attività che abbiamo in maniera tale che possono anche cominciare a parlare l'italiano, una ragazza sarà inserita presto all'università e poi parteciperanno anche ai corsi del CPA per l'insegnamento della lingua italiana. Ma voi dove li avete alloggiati? Due nuclei familiari sono di appoggio alle proprie famiglie, quindi ai propri parenti, e due si trovano temporaneamente alla pensione Zaraca, però stiamo cercando degli alloggi, anche perché la Caritas sin dall'inizio ha raccolto fondi per le Caritas impegnate direttamente, la Caritas Ucraina, le due Caritas Ucraine e le Caritas di Polonia, Moldavia e Romania che si trovano per l'accoglienza dei profughi. E poi ha raccolto la disponibilità di case e famiglie che si aprono appunto ad ospitare i profughi, per cui li sistemeremo in queste situazioni che sono state proposte. E intanto lavora a pieno ritmo anche la mensa della Caritas diocesana di Teramo dove vengono preparati e distribuiti giornalmente decine di pasti caldi ed è impressionante il numero di cittadini teramani che spontaneamente salgono le scale della diocesi per offrire la loro disponibilità ad ospitare i rifugiati ucraini nelle proprie abitazioni.